L'Abruzzo in zona gialla, Super Green Pass, mascherina FFP2 per salire su bus e treni. La tua intanto ripristina più corse in contemporanea con la riapertura delle scuole. Il direttore operativo tuo, Raffaele Piscitelli, traccia un primo bilancio di questa giornata. Ci sono controlli a terra e una collaborazione con le forze dell'ordine, dice, per far rispettare le regole. Direttore, cosa cambia oggi per il trasporto pubblico? Allora, da oggi entrano le nuove norme emanate dal Governo centrale che prevedono l'obbligatorietà del Green Pass cosiddetto rafforzato per poter salire a bordo degli autobus. Noi continueremo a fare quello che già stiamo facendo, semplicemente mettendo in modalità Green Pass rafforzato sull'applicazione che ci permette di controllare il titolo all'utenza. Dunque il tampone non basta più? No, assolutamente no. Noi prevalentemente facciamo i controlli a terra in modo tale da prevenire eventuali problematiche e qualora si verificassero delle situazioni più delicate, noi siamo in contratto con le centrali operative, dei carabinieri, della polizia, dei vigili urbani e quindi applichiamo quello che è stato stabilito nel piano prefettizio e da sua eccellenza il prefetto della provincia di Pescara. Questo dai 12 anni in su? Dai 12 anni in su. Noi applichiamo semplicemente la norma. Capienza? Sempre 80%. Come sta andando? Perché oggi coincide con la riapertura dell'anno scolastico? Sono moderatamente soddisfatto perché abbiamo garantito tutti i servizi, non ci sono delle problematiche, non sono emerse, incrociamo le dita e come primo giorno di scuola anche per noi. Vediamo l'uscita all'ora di pranzo. Anche perché è stato ripristinato l'orario scolastico, dunque le corse sono aumentate? Assolutamente sì, è in vigore il piano operativo che era stato progettato e ideato per la riapertura, quindi da settembre abbiamo posto in essere quello che ha funzionato da settembre fino alla chiusura del 23 dicembre. qualora si verificasse una problematica di questo genere facciamo intervenire le forze dell'ordine che sono e l'autorità preposta all'emanazione della multa, per i passeggeri parlo sempre. Sono disciplinati gli utenti o no? Direi proprio di sì. Grazie. 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 Grazie.